ma tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a pepino ma siamo noi ciao 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 a tutti grazie e siamo tutti grazie ciao 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 benvenuti a ferla stazione ferroviaria di ferla ma con salute gioia e felicità buongiorno ok ragazzi siamo arrivati perfetto lo sentite questo profumino? ah no non ci tocca mamma mia no no non ne avvi non ne avvi non ne avvi sì non ne avvi no non ne avvi bello no è bello fate cangiare e cangiare solo a vettura perfetto bellissimo non lo provo per 56 volte perché 55 è quest'anno e già ci portiamo avanti per l'anno prossimo te l'abbiamo fatta anche per l'anno prossimo non si vede più niente grazie a matrizia, a Renata, a Sanzio Massimo e Famile Giannuzzo, Gino, Prof Giannuzzo, Gino, Guido e Lisa grazie proprio tutti ci siamo tutti, tutti, tutti grazie a tutti grazie a tutti tenzioone, tenzioone grazie a tutti 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 ARA un saluto per tutti grazie per la splendida giornata grazie a te peppino due parole io vi ringrazio perché oggi dopo tantissimo tempo un compleanno bellissimo insieme a voi te peppino grande come sempre tutti grazie peppe auguri ancora alla prossima è stata dura è già e vabbè abbiamo festeggiato questo compleanno bellissimo ci siamo divertiti dovevamo fare 70 chilometri in tutto ne abbiamo fatti 100 perché poi si esagera è giusto quindi ecco e niente tanti auguri ancora peppe alla prossima bellissima giornata oh giorgine bellissima